E' che bello che si ritorna alla musica, sono contentissima di essere qui, spero che sia un buon inizio. Questa penso sia un'edizione particolarmente speciale dato l'anno che c'è stato e dato che insomma un po' tutti i lavoratori dello spettacolo sono in stand by. Chitarre che suonano da sola, nel silenzio di nessuna festa, la realtà non può essere questa. Speriamo che in un futuro prossimo le chitarre siano aperte. E questo primo maggio simbolicamente è molto importante per la riportenza anche di un comparto che è il mio, quello dei lavoratori dello spettacolo. Quindi ha una valenza e un valore simbolico molto molto importante. Si torna a respirare un po' la musica all'aperto che ci è mancata molto e poi ci cerca di dare un segnale. Insomma siamo qua per la festa dei lavoratori, si è parlato molto dei lavoratori dello spettacolo quindi insomma in qualche modo uniamo i due discorsi. Allora fare questo sound check è stranissimo perché è il primo che facciamo dopo tanto tempo come molti e quindi la sensazione è quella che riparta davvero qualcosa, è vivida. La reazione predominante in questo momento è la gioia ovviamente perché finalmente è una festa dei lavoratori dove possiamo festeggiare sul serio questo lavoro. Bisognaerno! Sì! Alessia andata